L'amore di Arezzo Stiamo cercando di andare a lavoro La giornata impegnativa Oh sì 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 Adesso piano piano io riuscirò ad arrivare dove devo arrivare Dove devo arrivare? Laggiù Laggiù non ce la facciamo Sto andando fuori Ci sono sono pronto Andiamo Allora Molto bene Cercheremo di espugnare questa parete volana Ma ce la faremo Aspetta aspetta Spostiamoci di là Vai vai Ce la facciamo Ce la facciamo Non scacciamo i bambini che stanno sotto Sono bambini piccoli piccoli che stanno qua sotto Spostiamoci verso la chiesa dove c'è più spazio Allora ci sono bambini così non ci fanno male Spostiamoci perché ci sono dei piccolissimi Però ci sono degli anni di appeltare la trapace Aspetta aspetta le impie